Yo, sono CNT e oggi vi volevo parlare di questo argomento. Dovresti imparare il trading su YouTube? La mia risposta non sarà una risposta secca, cioè c'è una parte che dice sì e una parte che dice di no. Ovvio, io sto mettendo questi video su YouTube, quindi potrei essere anch'io un po' baiting, ma cercherò di essere il più oggettivo possibile e poi voi avrete la vostra opinione, ovviamente. Cominciamo dalla parte in cui dice sì. Quindi, secondo me per un newbie, una persona che ha appena iniziato, è una buonissima opportunità, perché prima di tutto i video su YouTube sono gratis. Quindi per una persona che ha appena iniziato è molto facile imparare qualcosina senza pagare niente e visto che sono comunque in formato video, è un po' più facile che leggere sui libri. Ovviamente dovete essere abbastanza open-minded, quindi non andate a guardare i video e dite subito ah no, questo è fake, ah no, è impossibile fare questi soldi, però dovete essere anche voi oggettivi, nel senso guardando alcuni video in cui sembrano fake, dovete dire ah questo sì, è impossibile. È per quello che io cercherei di evitare i video in cui vi dicono l'almborghini qua, ho preso questo edificio qua, o ieri ho guadagnato un milione di dollari. Ok, non sto dicendo che loro sono fake, ce ne sono sicuramente alcuni, però quello che voglio sottolineare è il fatto che loro, magari lo fanno anche in buona fede, però è difficile diventare come loro. Noi non abbiamo bisogno di un role model, ma abbiamo bisogno di una strategia per tradare. Ovvio, loro vi possono dire, eh io ho investito in Bitcoin nel 2017, ho guadagnato un tot, ho investito su Tesla e ho guadagnato un tot, e ora cosa volete fare? Ora che è molto extended e che i prezzi sono molto diversi da allora. Quindi magari loro, allora, hanno fatto questo lotto play, io li chiamo così, e sono riusciti a diventare milionari. Però voi adesso avete bisogno di una strategia. E quindi sto dicendo che per un newbie comunque potrebbe essere interessante imparare le basi del trading, almeno capire i termini, capire che cos'è un pattern, capire, non lo so, come si legge una candela. E' per quello che, infatti, pure io ho messo queste lecture, che poi continuerò a mettere. Ora, andiamo a vedere la parte in cui dice no. No è per tutti coloro che sanno già tradare, o per coloro che sanno tutte le nozioni base, però non hanno mai ancora provato a tradare. Perché, ok, la teoria, ora so tutto, so che cos'è un candle, so che cos'è un pattern, so che cosa significa bullish, bearish, so che cos'è un Elliot wave, ma senza pratica non serve a niente. Perché alla fine voi lo fate per guadagnare i soldi. Quindi, se ormai sapete quasi tutto, non è molto utile andare a vedere uno che vi spiega le strategie di trading. Ovvio so che voi volete quel video in cui vi dice entrate a 100 dollari e uscite quando è a 200, stop loss così, e cosa... Avete già notato che io non vi metto questi tipi di video, ma cerco di mettervi in grande come funziona il mio trading e vi metto anche l'analisi e vi spiego anche il play che si potrebbe andare a fare là dentro. Però io non vi dico di entrare, ad esempio, a 60.000 dollari, perché in quel momento può succedere un cambio di volume, si potrebbe formare un nuovo tipo di pattern, che io non sono là in live con voi. Quindi cerco di insegnarvi come fare. Infatti vi metto delle analisi, anche secondo me potrebbero essere molto noiose. So che alcuni cercano di vedere tutta l'analisi, ma so che è noioso. È come quando si va a scuola e vi ricordate che vi mettevano teoria, teoria, ad esempio il calcolo del volume, il calcolo dell'aria, e poi noi andavamo a casa e facevamo un sacco di esercizi. Non bastava capire come. Dovevamo proprio eseguirlo. E secondo me è uguale anche in questo case. Quindi dobbiamo cominciare a fare la nostra strategia, il nostro plan, e poi eseguirlo. E poi fate sempre il review dei vostri trading, così sapete come è andato, sia che è andato bene, sia che è andato male. Se è andato bene, cercherete di riutilizzare questa strategia. Se è andato male, cercherete di escluderlo. E comunque io cerco di essere il più trasparente possibile. So che alcuni miei video potrebbero essere noiosi, con analisi così lunghe, con cose così specifiche, detailed. Però secondo me potevano essere utili per i trader, per capire come analizzare e come andare a fare i vostri trade. Poi ovviamente ognuno ha la sua strategia. Fate sempre attenzione e ragionate con la vostra testa. Per oggi è tutto e ci vediamo col prossimo video.